La promessa di una maggiore tutela del diritto alla salute e l'assicurazione da nord a sud di uniformità dei livelli di assistenza essenziali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, è intervenuto stamani alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico all'Università Cattolica Roma e ha assicurato il massimo sforzo per sostenere la ricerca scientifica e la formazione universitaria. Nessun taglio, qui il Ministro lo conferma, l'ha già dichiarato, noi non tagliamo, noi investiamo sulla sanità, sulla ricerca, l'innovazione tecnologica, sono in cultura, formazione, sono sicuramente quei settori che sono strategici per la crescita del Paese. Dal Premier l'augurio all'Ateneo di continuare a preservare la sua specificità ma soprattutto di essere laica, cioè orientata ad un dialogo continuo e responsabile con il mondo. La relazione tra medico e paziente è certamente una delle più intense tra quelle che si possono instaurare nel corso della vita. La capacità di parlare al malato con il linguaggio della verità ma allo stesso tempo con la massima considerazione per la sua sensibilità, per la sua storia personale. Ecco, sono questi aspetti decisivi qualificati delle professioni sanitarie. Nel suo discorso inaugurale il Rettore Franco Anelli ha auspicato una prudente riflessione che porti ad ampliare opportunamente il numero dei potenziali iscritti nelle facoltà mediche. Parlando del Policlinico invece ha affermato che ha sempre operato nell'ambito del servizio sanitario pubblico e intende continuare ad assicurare il proprio contributo ad un sistema assistenziale che costituisce un valore prezioso. Ad aprire la cerimonia stamani la messa presieduta da Monsignor Edgar Pegna Parra sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato Vaticana che ha ribadito come l'ecclesialità di una comunità non è mai da dare per scontata, non basta nemmeno il titolo di cattolica per garantirla, ha detto, è un dono che domanda sempre di essere accolto e ravvivato con fede e impegno generoso.